ed ecco a te spiegato ehi ciao sono peppo se oggi sono qui per spiegarti come utilizzare yazio mi raccomando se non l'hai fatto vai a guardare il video che si trova qui in alto a destra perché è un video davvero importante e poi torna qui perché continueremo a parlare ok ragazzi siamo qui su yazio già io ho tutte le calorie impostate e tutto ma vi spiegherò come utilizzarlo andiamo su tre puntini altro andiamo sui miei obiettivi e andiamo ad impostare le calorie che noi abbiamo pre calcolato grazie al video che vi ho detto già di guardare quindi se non l'hai guardato torna a guardare quel video quindi andiamo a cambiare le nostre calorie andiamo a mettere le nostre calorie ad esempio andiamo a mettere 2800 calorie andiamo su salva e già possiamo notare nella nostra home che abbiamo 2800 calorie ma dobbiamo pure impostare i macronutrienti quindi per ogni chilo corporeo andremo ad impostare più o meno 2 grammi di proteine e quindi andiamo a fare questo calcolo fate tra i 2 e i 2,2 grammi di proteine quindi ad esempio io sono 50 chili anche se non sono 50 chili e quindi andiamo a fare 50 per 2 sono 100 grammi di proteine quindi qua abbiamo ad esempio 130 grammi andiamo ad abbassare andando a selezionare la percentuale quindi poi andiamo a selezionare i grassi di solito faccio il 25 per cento tra il 20 e il 25 per cento e poi andiamo a selezionare i carboidrati che appunto sono per me i restanti dobbiamo fare in modo che alla fine il tutto risulti 100 per cento ora andiamo sulla nostra home andiamo a imparare come utilizzare tutto molto semplice come aggiungere i cibi perché perché una delle domande che potreste farvi è ma io quale cibo devo scegliere perché se voi andate a cercare ad esempio crager voi troverete 3800 tipi di crager e come fai a capire quali crager sono in questo caso ad esempio se noi andiamo a cercare crager sappiamo che i nostri crager hanno 106 calorie dopo aver cercato crager sulla nostra applicazione andiamo a cercare un pacco di crager appunto che siano quelli la che abbiamo noi e andiamo appunto a selezionare 106 calorie o se no possiamo essere ancora più veloci utilizzando il lettore di codice a barre così direttamente ci usciranno le calorie però ovviamente ragazzi state attenti perché non è mai del tutto preciso magari hanno cambiato le calorie produttori e però il codice a barre è rimasto lo stesso quindi voi comunque date un controllo dopo che mettete il codice a barre vedete se nel pacchetto c'è scritto 106 calorie se nell'applicazione c'è scritto 106 calorie perfetto noi a pranzo mangiamo olio di liva pasta integrale pane di frumento e petto di pollo ad esempio il petto di pollo non ha una marca se voi andate a prendere il petto di pollo dal macellaio il petto cioè il macellaio vi dice è marca quale marca del mio allevamento che ti posso dire quindi noi andiamo a cercare petto di pollo quindi petto di pollo ovviamente ragazzi andate a pesarlo crudo quindi petto di pollo crudo andiamo su solo verificati e ci uscirà appunto petto di pollo crudo questo qua è verificato ora qui c'è il cosino verde perché vuol dire che un prodotto che io già ho cercato in passato ma se noi andiamo a cercare ad esempio petto di pollo già qui su petto di pollo cotto ci uscirà la spunta del verificato come su instagram quindi andiamo ad aggiungere i nostri 100 grammi di petto di pollo che possiamo andare a selezionare o soltanto cliccando quella più a destra o sennò andando a modificare appunto qui i nostri grammi eccetera eccetera possiamo pure aggiungere i preferiti e qui possiamo notare appunto pure i carbo tra di chi ha le proteine i grassi e le calorie tornando indietro vedremo che appunto abbiamo un altro petto di pollo qui in alto se noi abbiamo sbagliato ad esempio abbiamo aggiunto due volte il petto di pollo cosa andiamo a fare cioè come facciamo ad eliminare il prodotto andremo a cliccare qui in alto a destra sulla matita e andremo a cliccare su un petto di pollo e elimina perfetto eliminiamo e siamo qui ora già da qui possiamo notare che c'è pure in basso centro copia e in basso a destra crea un pasto ora se noi andiamo a mangiare sempre lo stesso pasto ogni giorno perché magari preferiamo qualcosa di abitudinario come me io ragazzi mangio sempre a pranzo 200 grammi di pasta olio sempre la stessa grammatura quindi io faccio ad esempio pasta integrale e olio di oliva faccio crea un pasto posso andare a aggiungere qualcos'altro come ad esempio altro olio d'oliva che ne so se no parmigiano magari ci andiamo a mettere il parmigiano poi andiamo su descrizione andiamo a mettere come si chiama il nostro piatto pasta olio e parmigiano e parmigiano ok andiamo su salva e se noi andremo in un futuro a cliccare su aggiungi altri andiamo su pasti andremo a trovare sui nostri creati pasta olio e parmigiano quindi andiamo ad aggiungere siamo a posto o se no per essere ancora più fast magari soltanto domani andiamo a mangiare la stessa cosa andiamo su sempre sulla matita pasta integrale e olio di oliva e parmigiano andiamo su copia andiamo al 29 gennaio perché da me domani è 29 gennaio e andiamo su appunto ora del giorno pranzo se magari lo mangiamo a colazione lo mettiamo sulla colazione e poi andiamo su copia copiato correttamente la tua selezione è stata copiata correttamente perfetto ora se noi andiamo a domani domani ci uscirà che già c'è del cibo vedete 540 calorie abbiamo pasta integrale olio d'oliva e parmigiano perfetto poi abbiamo la possibilità di aggiungere quanto abbiamo bevuto ci esce pure l'acqua dal cibo ad esempio qua abbiamo 74 ml dal cibo che abbiamo assunto abbiamo delle ricette ad esempio qui abbiamo muffin d'avena possiamo direttamente aggiungerlo cliccando qui in basso a destra abbiamo tutte le istruzioni quindi abbiamo pure varie ricette non sono tutte gratis nel senso che c'è un abbonamento pro che possiamo fare perché ragazzi perché è così perché hanno deciso di fare l'abbonamento pro ho detto pure amici di azione amici non è che mi date un abbonamento due per i miei carissimi fan alla fine costa poco anzi in realtà voi non costa un ca e loro no va bene però comunque il video lo farò lo stesso perché è un'applicazione che merita ragazzi si merita io mi ci trovo benissimo da tipo un anno e mezzo due anni che la utilizzo quindi abbiamo pure il coach che alla fine sono altre ricette che ti danno e punto basta cioè loro ti dicono colazione mangia questa ricetta pranzo questa ricetta cena questa ricetta basta di altre funzioni importanti non è che abbiamo così tanto alla fine è questo qui una cosa che vi dico è che loro vi dicono ad esempio colazione consigliato 840 calorie consigliato a pranzo 1.120 io faccio quel cazzo che va importante è a fine giornata riuscire a far diventare questo coso rosso deve diventare verde punto e basta semplice io spero che questo video vi sia piaciuto se manca qualche funzione che magari già tu conosci scrivila qua sotto nei commenti perché così gli amici che non sanno questa funzione possono andare a imparare la funzione se pensi che ci sia una funzione utile che magari io non utilizzo perché sono stupido scrivilo qui sotto nei commenti e mi raccomando condividi il video con tutti i tuoi amici lascia un like e iscriviti al canale facciamo esplodere sti video perché ragazzi sarà una serie di video una volta a settimana una volta a settimana qui più gli shorts io vi saluto e ciao amici grazie